che seguiva il giorno della sepoltura. Giovanni Bosco, 1815-1888, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Era dotato di facoltà paranormali. Intorno a lui si svolgevano spesso fenomeni a carattere di poltergeist, venti freddi, rap e movimenti di oggetti. Nel suo scritto Cenni sulla vita del giovane Luigi Comollo, suo compagno di seminario, trapassato molto giovane, Don Bosco, senza nominarsi, dice tra molto altro ciò che accadde la notte del 4 aprile che seguiva il giorno della sepoltura del Comollo. A un certo momento si fa un improvviso silenzio, splende più viva quella luce e si ode distintamente la voce del Comollo che, chiamato per nome il compagno Don Bosco, tre volte consecutive, dice io sono salvo.